buongiorno da Marte oggi abbiamo un'intervista particolarmente attesa perché si parlerà di intelligenza artificiale ne parlano tutti però sono pochi quelli che sanno veramente di cosa di cosa si parla e quindi vogliamo intervistare un giovane ingegnere informatico che sta lavorando proprio sull'intelligenza artificiale e in particolare sulla creatività. È dottorando dell'Università di Bologna ma in questo momento è a UCL a Londra che è uno dei college più prestigiosi per quello che riguarda appunto questo genere di studi. Quindi grazie Giorgio Franceschelli di essere con noi e comincio subito col farti questa domanda. Che cosa fa esattamente un ingegnere informatico? Cioè tu che cosa fai? Uno pensa che magari uno aggiusta i computer no? Invece no è tutt'altro un ingegnere informatico ma non è neanche un programmatore veramente? Cioè che cosa fa? Innanzitutto grazie a voi. Allora cosa fa un ingegnere informatico? Fa un po' tutte le cose che hai detto più altre dipende ovviamente dall'ingegnere informatico. Un ingegnere informatico che continua a studiare in particolare fa quello che forse ingegneria informatica in quanto etimologia richiederebbe progetta sistemi informatici. Come questi sistemi informatici funzionano ovviamente può variare e nel mio caso specifico è più legato all'intelligenza artificiale però appunto sempre legato a progettare qualcosa da un punto di vista ingegneristico se vogliamo utilizzando strumenti informatici quindi molto banalmente computer e sì programmando ma ovviamente il programmare viene dopo. È una delle ultime fasi diciamo dell'ideazione e la progettazione. Certo ottimo e quindi tu hai usato la parola sistemi. Sistema è una parola che voi usate molto così come anche reti no? Le reti neurali che fanno un po' paura a chi non è del mestiere perché si pensa alle neuroscienze, si pensa invece alle reti della comunicazione, invece fa tutto parte di un linguaggio che forse dovremmo appunto tutti imparare a usare perché tu ne parli in maniera molto molto semplice ma in realtà immagino che sotto ci sia una complessità notevole. In particolare tu ti occupi di creatività dell'intelligenza artificiale e anche questo fa un po' paura. Perché è importante che l'intelligenza artificiale non sia solo mera esecutrice di compiti ma che possa anche dimostrare una creatività? Ma ci sono tanti motivi per cui è bene che ci si occupi di creatività insieme a intelligenza artificiale. Il primo che mi viene in mente pensando anche le tecnologie più comuni al giorno d'oggi è per evitare una sorta di banalizzazione, di rigurgitare semplicemente i dati che abbiamo in maniera banale, in maniera scontata, in maniera prevedibile se vogliamo, che ha varie declinazioni di motivazioni da quelle più legali per cui ovviamente diversificare ciò che viene prodotto permette di tutelare anche chi ha realizzato le opere originali iniziali, di evitare che vengano plagiate se vogliamo, ha motivazioni più artistiche perché possono essere utilizzate per trarne ispirazioni oppure per perfezionare determinate cose, per permettere di concretizzare magari idee pregresse. Quindi è fondamentale considerarle entrambe insieme e è fondamentale soprattutto non considerare l'intelligenza artificiale come qualcosa di, diciamo, banale, di statico che non possa originare nulla di nuovo perché è chiaro che appunto lo si banalizza. È qualcosa di rivoluzionario, di trasformativo, anche in questo senso studiare intelligenza artificiale insieme a creatività ci permette di comprenderne meglio i funzionamenti, ci permette di studiarne da un punto di vista etico-filosofico cosa succede quando applichiamo queste tecniche in ambito creativo, anticipando, se vogliamo, quelli che magari poi sono i trend del momento per cui, sì, si può utilizzare C.A.G.P.T. per creare, per generare poesie, ma cosa significa utilizzare C.A.G.P.T. per generare poesie? È creatività? Chi è creativo? Insomma, sono tutte domande che è importante considerare e questo è un po' l'obiettivo da un punto di vista concettuale di ciò di cui mi occupo. Ecco, io mi sono assegnato due o tre parole che hai detto che aprono il campo tantissimo perché hai tirato in ballo la legalità con il diritto d'autore, il discorso del plagio, il discorso dell'arte, hai parlato di etica e di filosofia, tutte cose che apparentemente sembrano lontane da quella piccola parolina che abbiamo usato all'inizio, che è ingegneria, no? Che ci dà l'idea di una tecnologia separata da tutti questi altri contesti. Mi sembra di capire quindi che il tuo lavoro ha senso anche in un contesto inter e multidisciplinare, quindi non è autoreferenziale, cioè tu non stai in uno studio a lavorare su questa cosa, ma ti interfacci, ti relazioni anche con altre discipline e con altri studiosi, sbaglio o ho capito bene? No, no, è assolutamente così. Tra l'altro appunto di colore sull'ingegneria informatica, la cosa che secondo me è interessante è che, quantomeno a Bologna, ma anche in altre parti d'Italia, l'ingegneria informatica è inquadrata in un dipartimento che è sia ingegneristico sia scientifico. E già questo secondo me riflette quello che è una prospettiva multidisciplinare e quali possono essere anche i modi per vedere l'informatica e l'intelligenza artificiale. Lo si può vedere dall'ambito ingegneristico di progettazione, lo si può vedere dall'ambito scientifico, metodologico, e in più a tutto questo è bene aggiungere, soprattutto adesso che queste tecnologie hanno un impatto così forte sulla società, una serie di considerazioni interdisciplinari che spaziano dall'etica e filosofia, volendo anche politica, giurisprudenza, arte, letteratura, tutto l'ambito umanistico, tutto ciò che riguarda la società contemporanea. Quindi è importante che tutte queste persone imparino a interfacciarsi con voi, che siete gli esperti di questo, ecco, che non si improvvisino esperti di, ma che nemmeno... È importante sia che loro non si improvvisino esperti di e si interfaccino con noi, sia ovviamente anche che gli ingegneri, dalla loro parte, non abbiano la presunzione di saperne più degli umanisti per quanto riguarda quei contesti, quindi che appunto questo interfacciamento sia bidirezionale, aiuti entrambe le direzioni. Senti, ma a Londra c'è l'aurora boreale in questo momento, perché io vedo delle luci verdi che mi spiazzano un po', è interessante questo effetto, però... Probabilmente è il mio computer che sente la necessità di esprimersi sul merito, vuole partecipare... E' una creatività che si esprime nella cromanica, nel colore, no? Lui vuole dirci la sua, quindi dovremmo decodificare questo segnale, mi sembra molto importante. Senti, velocissime ultime cose. La prima è che sento sempre di più usare un aggettivo che in italiano sembra un po' antiquato, in italiano è senziente, sentient in inglese, no? Sentient being, cioè essere senziente, che sta un po' rimpiazzando in certi contesti il termine human o il termine intelligent. Ti risulta questa cosa o è una mia idea e comunque è importante che l'intelligenza artificiale cominci a essere definita anche con altre parole che non siano sempre AI o IA? Allora, diciamo che lato accademico-ingegneristico è un termine che si usa ancora molto poco. si continua comunque a parlare più di intelligenza in generale o comunque legato all'intelligenza umana. Io credo che ci sia un problema di fondo nel parlare di intelligenza e anche nel parlare di esseri sentienti e così via. E si parla sempre di parole che per noi hanno un significato, ma a cui facciamo fatica ad attribuire una definizione precisa e puntuale per valutarlo e per determinarlo. Sono un po' quelle parole di cui sappiamo cosa vuole dire, ma se lo dovessimo spiegare faremo un po' fatica. Queste sono parole che fanno molto bene da un punto di vista propagandistico, se vogliamo, pubblicitario, non molto bene da un punto di vista scientifico perché diventa davvero difficile capire quando una macchina è diventata intelligente, quando una macchina ha consciousness, come si suol dire, perché noi stessi non sappiamo quando noi possiamo effettivamente essere considerati intelligenti, essere considerati coscienti. Sappiamo che lo siamo, ma non sappiamo dire precisamente perché da un punto di vista meccanicistico. Quindi non sappiamo valutarlo e di conseguenza non sappiamo dire se ciò avviene o non avviene. Quindi è bene parlare, utilizzare questi termini perché sono comprensibili anche da chi è al di fuori di ambiti non solo ingegneristici, ma anche di neuroscienza o di psicologia. Sarebbe bene però forse anche arrivare a dei termini che abbiano delle definizioni più precise per permetterci di caratterizzare e di determinare in maniera più precisa e puntuale cosa abbiamo in questo momento, cosa avremo, cosa abbiamo avuto e cosa non possiamo avere. In effetti sono parole che troviamo un po' combinate in modo libero più che altro nella letteratura o nella critica appunto letteraria e antropologica. C'è chi usa questi termini magari non ancora, che non sono nell'ambito scientifico. Ecco, probabilmente per voi sono termini che non sono proprio un lessico rigoroso, però io vedo che c'è un po' un tentativo di nominare in modo diverso le macchine. Ci sono a volte addirittura, sono state chiamate umani, humans like us di McEwan. È un caso molto esemplare, le macchine sono come noi, quindi sono macchine, machine like us, sono machine, sono human. Insomma c'è un po' questo miscuglio. La penultima domanda è, a proposito di creatività, tu su che progetti stai lavorando per esempio in questo momento? Sono segreti, sono top secret o puoi dirci qualcosa su uno o due progetti su cui stai lavorando? Sono in parte top secret, in parte troppo acerbi per essere raccontabili in maniera proficua. In generale quello su cui mi sto occupando è cercare di capire qual è il modo migliore per far divergere, se vogliamo, le reti neurali, l'intelligenza artificiale. Perché per come sono allenate, come avviene il deep learning tipicamente, è convergenta, se vogliamo. Bisogna che la distribuzione converga verso i dati che abbiamo. Cioè vogliamo replicazione, se vogliamo. Quello che mi chiedo io è, è possibile invece divergere, è possibile diversificare pur mantenendo correttezza, se vogliamo. Quindi questo è un po' quello che sto cercando di fare. Non posso andare più nel dettaglio di così perché non lo so di preciso neanch'io. Però potreste dire il nuovo Jenkins. Jenkins ha scritto la cultura della convergenza, tu potresti scrivere la cultura della divergenza. Io ti do questo input, si può... Sarebbe bello, sì. Non sarebbe male. Senti, ultima, ultima cosa. Che cosa porteresti su Marte? Ma che cosa porterei su Marte? L'intelligenza artificiale ce la porterei a patto che con lei ci sia anche l'intelligenza umana, intelligenza naturale che sia comunque al primo posto e per cui l'intelligenza artificiale sia di supporto, ecco. Mi piace molto questa precisazione che hai fatto, intelligenza naturale, non umana, naturale, perché anche gli animali possono essere intelligenti, no? Anche i martiani possono essere intelligenti. Ah, certamente, certamente, io posso assicurarti. Ok, noi ti ringraziamo tantissimo, Giorgio Franceschelli da Londra, e quando tornerai, quando avrai qualcosa di più definito e di più non top secret, magari ci rivedremo qui o chissà parlare di qualche tua pubblicazione, perché so che sei anche un poeta, quindi attenzione anche a questa doppia veste, è scritto romanzi, racconti, poesie, quindi speriamo di trovarti su Marte anche come poeta. Grazie ancora, grazie Giorgio. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao.